Non potevano farti fare questo progetto perché Oreste Castagna è un orgoglio bergamasco. Fategli un grande applauso perché è un grandissimo attore, preparatore, formatore e non potevano farlo venire a Sarnico. E questo è un progetto sfinanziato dal nostro comune che abbiamo regalato all'asilo. Come noi, come amministrazione, siamo sempre stati vicino al nostro asilo. E ho nominato tutto il CDA, la Presidente Lazzari, che come vedete, insieme a tutto il CDA, ha fatto un egregissimo lavoro in questi cinque anni difficili di Covid, pandemie. Ne sono successe di ogni rincari energetici, però la bravura è loro. E quindi farei un grande applauso a tutto il Consiglio di Amministrazione che gratuitamente si è sempre prestato per noi, per la nostra comunità e per i nostri dei bimbi. Un ringraziamento alle maestre, a tutto il corpo docenti. Siamo una bella squadra, una bella famiglia. E soprattutto un grande applauso ai nostri bimbi, che sono il fiorfiore della nostra comunità. Fateglielo, vedrò con entusiasmo questo bellissimo spettacolo. Siamo tutti una grande famiglia, una grande comunità. La famiglia di Sarnico, tutti insieme, uniti sempre, soprattutto per i nostri bimbi. Viva l'asilo, viva Sarnico e viva i nostri bimbi. Grazie mille.